Grazie Tonia, devo dire che il conflitto di interessi affettivo è assolutamente reciproco, Tonia mi ha visto crescere, non d'altezza come potete tutti notare, ma sicuramente è una relazione umana e politica che va avanti da anni con Tonia così come con i compagni e con le compagne di questa città. Che ringrazio perché qui ho imparato che cos'è la politica, che cos'è la militanza comunista, che cos'è la passione femminista e quindi davvero vorrei esordire con un ringraziamento a tutte e tutti voi. Aggiungo una cosa, siamo ai playoff e penso che questa sia una buona notizia per questa città, penso che però sia una cattiva notizia per la politica, perché come ricordava Tonia hanno trasformato il dibattito politico in una partita di calcio, una partita di calcio che ha tre protagonisti, i tre protagonisti principali che occupano lo spazio televisivo, lo spazio della comunicazione, li conoscete tutti, sono Renzi, Grillo e Berlusconi. Ma la cosa più triste è che non solo questi tre giocatori hanno occupato tutto il campo e che provano a renderci soltanto tifosi nella politica, mentre noi abbiamo un'idea della politica completamente diversa, abbiamo un'idea della politica come partecipazione, abbiamo un'idea della politica che non nasce e non muore durante una campagna elettorale. I candidati e le candidate dell'altra Europa con Tsipras, così come della lista Convochiamoci per Bari, sono uomini e donne che fanno della politica la loro pratica quotidiana, sono uomini e donne che hanno dato vita al Movimento per l'Acqua, sono uomini e donne che hanno difeso il diritto all'istruzione e all'università pubblica in questa città, sono uomini e donne che vengono da percorsi politici diversi, ma sono sicuramente accomunati da un'idea della politica come partecipazione e non come tifo. Penso che questo sia un punto fondamentale, perché noi proponiamo non solo una politica diversa, ma anche un'idea diversa di politica, e credo che sia ora di rivendicarlo e di ribadirlo. Guardate, io ho affrontato questa campagna elettorale per me straordinaria, perché mi ha permesso di conoscere un paese nel paese, in questo sud, fatto di militanza generosa, intelligente, appassionata. E dall'altro lato c'era chi viveva la campagna elettorale con molti mezzi, con una grande presenza televisiva, con slogan altisonanti, e provava però a vivere questo spazio, questo non luogo della campagna elettorale, come il momento in cui può far agire una rimozione, il momento in cui poter dire esattamente il contrario di quello che si è fatto negli anni precedenti. Penso che questo valga ovviamente per le forze del centro-destra, che ora scaricano sul centro-sinistra le scelte dell'austerità, elevando Berlusconi al ruolo di vittima, fatto fuori dall'Europa. Vale per il centro-sinistra, che scarica a sua volta sul centro-destra. Ecco, io penso che noi dobbiamo ricordare, ricordare molto chiaramente, che le politiche di austerità hanno dei responsabili, sono scelte politiche fatte da soggetti politici. Questi soggetti politici sono in Europa il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo, che hanno votato nel 74% delle volte alla stessa maniera. E in Italia si chiamano, appunto, Berlusconi, Centro-destra, Giorgia Meloni, Partito Democratico. Partito Democratico che ha sostenuto il governo Monti, regalandoci il fiscal compact, 50 miliardi di tagli all'anno per 20 anni, che ha dato mandato a Letta, che a sua volta ha dato mandato alla Commissione Europea per trattare sul TTP un trattato di commercio di cui non sappiamo quasi nulla, perché gli atti sono secretati persino agli eurodeputati, ma che ci renderà il cortile commerciale degli Stati Uniti. E poi Matteo Renzi, di cui, come direbbe il comico, abbiamo una diapositiva che lo ritrae in migliaia e migliaia e migliaia di manifesti, anche abusivi, con cui è stata tappezzata questa città e che lo ritrae insieme all'altro esponente del Partito Democratico, importante in questa città, il candidato sindaco, a dimostrazione del fatto, il candidato sindaco De Caro, a dimostrazione del fatto che l'Europa e la città sono a livelli fortemente connessi, beh, Matteo Renzi era quello che aveva esordito con i suoi tweet, l'Italia cambia verso, la svolta buona, era il leader della rottamazione, ma io penso che sia il leader della continuità, della continuità con le politiche che precarizzano il lavoro. Il primo provvedimento di sostanza di Matteo Renzi è stato il Jobs Act, che ci rende ancora più precari in un paese in cui la precarietà è aumentata dal 160% in vent'anni, in cui si è perso più di un milione di posti di lavoro dall'inizio della crisi. Questo ha fatto Matteo Renzi, ha aumentato la precarietà, ha proseguito esattamente con le politiche della Fornero, con la signora ministra che ci raccontava di una contrapposizione tra garantiti e non garantiti e trovava come unica soluzione quella di aumentare l'età pensionabile e aumentare la precarietà del lavoro, impoverendoci tutte e tutti. Beh, io penso che noi dobbiamo fare, da questo punto di vista, quello che ci ha insegnato Alexis Tsipras, questo leader dal nome strano, qui c'è mia madre che lo pronuncia ogni giorno in modo diverso, ma non importa, perché quello che importa è il programma. Il programma di Alexis Tsipras è unire ciò che il neoliberismo ha diviso, unire ciò che il neoliberismo ha diviso, perché hanno costruito una retorica, una retorica pesantissima, basata sulla contrapposizione tra garantiti e non garantiti, tra chi lavora o chi ha una pensione che avrebbe vissuto al di sopra delle proprie possibilità e i giovani precari, a cui chiedevano ancora una volta di continuare ad essere più precari di prima. Io penso che noi dobbiamo unire, unire chi sta pagando il prezzo della crisi, unire le diverse tipologie del lavoro precario frammentato, unire chi è pensionato, chi è disoccupato, stiamo parlando di tasse di disoccupazione nell'Europa meridionale, oltre il 42% per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Dovremmo provare a fare, come diceva un vecchio barbuto di Treveri, provare a unire i proletari di tutta Europa. Questo è un po' il senso dell'altra Europa con Cipras, unire chi sta pagando il prezzo della crisi. Questo è il progetto che ci siamo dati, un progetto che parla tante lingue diverse. Noi abbiamo lo stesso programma scritto in italiano, in greco, in tedesco, in spagnolo, in francese, in portoghese, perché non abbiamo scelto la scorciatoia del nazionalismo, non abbiamo scelto la scorciatoia dell'euroscienticismo, abbiamo scelto di agire perché l'Europa possa cambiare, perché possa diventare davvero l'Europa dei popoli e non l'Europa delle banche, non l'Europa dei profitti, non l'Europa delle frontiere. E questa è un'idea che viene da lontano, viene almeno dal 2001, da quando abbiamo attraversato le strade di Genova dicendo che un altro mondo era possibile. E la risposta che ci hanno dato è stata repressione, repressione durissima in quei giorni, lo ricordiamo tutti. Ma non ci siamo fermati, l'anno dopo eravamo a Firenze, nel primo social forum europeo, un social forum che parlava di un'altra Europa possibile. Io penso che le nostre idee vengono da lontano e le nostre idee andranno lontano. Andranno oltre il 25 maggio. Andranno oltre il 25 maggio perché c'è bisogno di cambiare l'Europa, c'è bisogno di cambiare i trattati, c'è bisogno di cambiare il ruolo della Banca Centrale Europea che presta alle banche private e non presta agli Stati, costringendoci a fare i cosiddetti, i maledetti sacrifici per pagare gli interessi sul debito. C'è bisogno di una conferenza europea sul debito, esattamente come è stato fatto in Germania negli anni 50, per evitare che i debiti di guerra stritorassero ancora una volta quel paese dando vita alle tragedie, che purtroppo ricordiamo le tragedie devastanti, le più devastanti della storia d'Europa, come conseguenza dei debiti di guerra della Prima Guerra Mondiale. e noi vogliamo cambiare i trattati, vogliamo una conferenza europea sul debito, vogliamo cambiare il ruolo della Banca Centrale perché pensiamo che questa austerità stia producendo soltanto un aumento delle disuguaglianze e ci porti dritto dritto alla recessione. Noi pensiamo che la strada, la via d'uscita, sia la redistribuzione del lavoro, la redistribuzione del reddito. Redistribuzione del lavoro con un piano europeo per l'occupazione, redistribuzione del reddito, un reddito minimo garantito. Questo è necessario non soltanto per le nostre vite, per le nostre vite precarie, per le nostre vite da disoccupate e disoccupati. Precarietà, lo dico sempre, è il contrario di autodeterminazione. Precarietà è il contrario della possibilità di poter scegliere sul proprio presente e sul proprio futuro. Beh, io penso che noi dobbiamo uscire da questa stagione di precarietà delle vite non solo perché è giusto, ma è anche perché è l'unica scelta che abbiamo se vogliamo far ripartire in maniera produttiva, in maniera socialmente accettabile l'economia. Emiliano Brancaccio ha scritto che precarizzare il lavoro significa precarizzare la domanda, significa che chi è precario o chi è disoccupato non ha soldi da spendere, non ha soldi da spendere per acquistare merci e chi produce quelle merci sceglie di licenziare e aumenta la disoccupazione e di qui la spirale, recessione, recessione e disoccupazione. È da tutto questo che dobbiamo uscire e tutto questo che dobbiamo cambiare. Ed è per questo che è importante il 25 maggio dare forza alla sinistra in Europa, dare una voce anche italiana alla sinistra europea. Abbiamo scelto un leader greco, lo diceva prima Franco, penso che questa sia una scelta più che mai giusta perché in Grecia stanno pagando più che altrove il prezzo delle politiche di austerità sulla sanità, sul pubblico impiego, sulla televisione di Stato. C'è una cosa che da precaria dell'università, da precaria della ricerca, mi preme ricordare. Ad Atene chiude l'Ateneo. Questo non è un gioco di parole. È il segno che l'austerità sta distruggendo la culla della civiltà europea. Sta distruggendo il luogo dove è nata l'idea di cultura, l'idea di civiltà d'Europa. E insieme a questo stanno distruggendo l'idea di welfare, l'idea di Stato sociale che hanno costruito le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici. L'idea che ad esempio il carico sociale non sia una questione privata come sta tornando ad essere sulle spalle delle famiglie e delle donne ma sia una questione pubblica, sia una questione legata all'idea di società e di progresso sociale che abbiamo. Esattamente questa è l'Europa che stanno distruggendo. E allora il nostro dialogo con la Grecia, con il partito di Tsipras è iniziato appunto nel 2001 quando i giovani comunisti e i giovani del Sinapsis Moss provarono insieme a marciare per le strade di Genova in realtà loro non ci riuscirono perché Alexis come gli altri fu bloccato ad Ancona. Ed è continuato, è continuato quando abbiamo costruito il movimento per il sapere pubblico, per la difesa dell'università, le stesse identiche contro-riforme colpivano l'università italiana e l'università greca nello stesso momento. Ma abbiamo scelto un leader greco anche per partire da sud, anche per dire che si può riscrivere un futuro dell'Europa in cui Mediterraneo non significhi periferia, in cui Mediterraneo non significhi lago di morte. Una delle ragioni per cui sono particolarmente contenta è che Luigi sia il nostro candidato sindaco e che lui si è mobilitato come avvocato e come attivista contro quello scandalo che sono i CIE, che sono Icara in cui noi deteniamo uomini e donne che cercano salvezza, che cercano felicità, che cercano futuro. Ecco, l'Europa che noi vogliamo è un'Europa dell'accoglienza, non un'Europa in cui, come propone qualcuno, Matteo Salvini siano messe le mitragliatrici per impedire alla gente di sbarcare sull'ampedusa. Abbiamo scelto, e chiudo, un leader greco anche per un altro motivo, perché ci parla non solo di una possibilità di cambiare l'Europa, di cambiarla a partire dal sud, ma non contro il nord, appunto il nostro nemico non sono i paesi del nord Europa, i nostri nemici sono coloro i quali continuano a fare profitti sul lavoro, sulla disoccupazione e sulla miseria. C'è un altro motivo, dicevo, quello di dare un futuro alla sinistra anche in Italia, un futuro che parli europeo e che parli d'Europa, Alexis Tsipras è il vicepresidente del partito della sinistra europea, ma rappresenta anche un modello di sinistra, una sinistra capace di diventare forte perché interna al conflitto sociale, forte perché unisce, unisce, Siriza era poco più di dieci anni fa un partito del 3%, ieri ha vinto, avanti ieri ha vinto le amministrative in Grecia, ma di unire su una parola chiara, su un programma chiaro e alternativo. Siriza non ha mai fatto accordi col PASOC, perché il PASOC esattamente come il partito democratico, esattamente come il partito socialista europeo, è uno dei pilastri dell'Europa dell'austerità. Ecco, una sinistra europea, alternativa, forte, radicata nel conflitto sociale. Votare il 25 maggio l'altro Europa con Tsipras è importante, è importante per cambiare l'Europa, ma è importante anche per dare forza a un progetto di sinistra anche qui in Italia. Grazie a tutti e a tutti.